Il Trentino e la Valsugana Primi in Italia per la qualità della vita dei residenti L'indagine è stata condotta dal sole 24 ore In Trentino ed in Valsugana si vive davvero bene I servizi sono adeguati sia per gli over 65 Che per i giovani ed i bambini In Italia siamo in vetta per la qualità della vita E per il benessere dei nostri anziani Al primo posto per la spesa degli enti pubblici Per l'assistenza domiciliare E dal terzo in quella per il trasporto di disabili ed anziani Buona risulta essere, secondo il sole 24 ore La qualità di vita dei bambini Però c'è un però Come in Trentino e Valsugana Purtroppo siamo in fondo alla classifica Per il consumo di farmaci per le malattie croniche